Buono lo schieramento. Partono un po' tutti quelli della prima fila. Cerca ad avvantaggiarsi il raggio di sole Vigi che prende la testa davanti a Re Robintor. Numero 2, Roulette B, squalificato. L'errore la squalifica per Roulette B. Intanto Re Robintor va subito a rilevare il battistrada. E quindi Roberto Vecchione al comando dopo i primi 200 metri in 15. Poi vediamo Rienda Suelta in terza posizione davanti a Reitav di fuori Runara che cerca posto. E subito Ramadan Jet avanza al primo passaggio. Tanto i primi 400 in 30 e mezzo da parte di Re Robintor. La squalifica per Runara. Seconda curva con l'allievo di Roberto Vecchione che conduce davanti a raggio di sole Vigi. Ora Ramadan Jet si propone. Curva in 15.7, frazione delle scuderie con Ramadan Jet che va ad incalzare il battistrada. Si mantiene secondo a raggio di sole Vigi davanti a Rienda Suelta. Poi Reitav, frazione delle scuderie in 14.7, quindi fa su serio Ramadan Jet, non fa respirare Re Robintor. Bello il duello fra i due. Ora siamo sulla curva con i due apparigliati. Ramadan Jet affianca completamente il battistrada. Viene fuori un 15.2 per la curva. Secondo passaggio davanti alle tribune. Prosegue il duello fra Re Robintor e Ramadan Jet. A distanza raggio di sole Vigi davanti a Rienda Suelta affiancata da Ruben Griff, frazione delle tribune addirittura in 14.4. Ancora Re Robintor che cerca di respingere gli attacchi portati da Ramadan Jet. Raggio di sole Vigi si mantiene lì in seconda posizione. Ora la curva viene passata in 15.1 da Re Robintor. Ora Ramadan Jet prende fiato, si avvantaggiano i due pronti per la stoccata finale. Ramadan Jet ancora all'attacco del battistrada. Sembra ancora abbastanza in mano Re Robintor. Frazione delle scuderie passate in 15.1, ma Re Robintor prova l'allungo. Sì, sistema secondo. Ramadan Jet, poi gli altri con Rienda Suelta che prova ad avanzare. Intanto Re Robintor ha preso buon vantaggio, Ramadan Jet che cerca di riorganizzarsi. La curva viene passata in 15.6. Retta d'arrivo, Re Robintor l'affrotta in netto vantaggio. Si butta di dentro Ramadan Jet, ultimi 100 metri con Re Robintor in vantaggio attaccato da Ramadan Jet. Ma è Re Robintor che viene a vincere davanti a Ramadan Jet e Rienda Suelta. Triplo in apertura per Roberto Vecchione che oggi è scatenato. Tre corse, tre vittorie. Viene a vincere con Re Robintor al rientro qua in Italia dopo un periodo all'estero con il tren di Holger Ehlert. La quota al tatalizzatore è di 2.56. Re Robintor, Holger Ehlert, Roberto Vecchione. Ricordiamo tre corse e tre primi. Grazie.